Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday, dopo una settimana di pausa forzata torniamo con una schermata su coin360.com che ci fa vedere un verde sparso rispetto a 7 giorni fa ma anche se dovessimo prendere i 14 giorni, ossia l'ultimo aggiornamento fatto qui su YouTube e non solo BTC che fa un più 2.13% rispetto al lunedì scorso con Ether che fa un più 3% ma anche altre monete come ad esempio BNB che ci fanno vedere un più 15% con AVAX più 19%, Nier un più 23% e tante altre vista l'ondata di positività che ha portato soprattutto l'annuncio del merge su Ethereum cosa che andrà a concretizzarsi proprio in questo mese, infatti è da qui che vengono le migliori notizie per il settore per il resto siamo in un periodo abbastanza tranquillo, un periodo in cui solitamente ci sono pochi volumi e tutto è in attesa di quello che succederà a settembre sia dal punto di vista di politiche monetarie sia dal punto di vista di economia più allargata comunque entriamo su coin360.com per vedere il quadro generale della situazione del mercato con una capitalizzazione totale che rimane superiore ai 1000 miliardi di dollari con 1120 miliardi in questo momento una dominance di BTC che si alza torna al 40.6% e soprattutto Ether che torna verso il 19% in questo momento al 18.8% lunedì e settimana che sembra aprire in modo positivo ovviamente bisognerà attendere quello che succederà anche sui mercati finanziari in generale andiamo a vedere Bitcoin nelle sue diverse finestre temporali rispetto appunto a sette giorni fa vediamo un leggero rialzo rispetto a un mese fa abbiamo anche qui una finestra positiva infatti il 9 luglio BTC valeva 21.486 dollari tre mesi fa il prezzo era un pizzico più alto perché era superiore ai 31.000 dollari quindi in questa finestra molto importante vediamo ancora un trend ribassista rispetto all'estate scorsa e un anno fa Bitcoin è in netto calo 45.500 dollari l'8 agosto 2021 per poi far vedere quello che è stato il rialzo più importante dell'ultimo periodo con il relativo all time high visto a novembre passiamo velocemente all'analisi tecnica con la coppia BTC-USD su Coinbase queste sono candele giornaliere come possiamo vedere appunto la candela odierna è positiva è verde il prezzo si è distaccato dalla media mobile a 50 periodi questa è in arancione molto lontana dalla media a 200 periodi che è molto più alta in questo momento si va a appoggiare sui 33.000 dollari che rimangono una resistenza verso l'alto o quantomeno in questo momento un target in caso di bull run dato più importante della media giornaliera in quanto essendo questo un periodo molto lento con volumi molto bassi è il quadro che possiamo vedere con le candele settimanali perché BTC è tornato al di sopra della media mobile a 200 settimane questo era già successo settimana scorsa in questo momento con la chiusura ancora una volta superiore a questo livello c'è una conferma di questa che a questo punto diventa un supporto in questa fase ed era molto importante tornare qui sopra perché BTC è sempre stato con le sue candele al di sopra di questa media e aver formato un supporto qui sopra è un buon segnale a livello di analisi tecnica adesso la rincorsa sarebbe quella di vedere un recupero dei livello dei 25.000 dollari verso l'alto e comunque resistere all'interno di questa fascia ristretta che in questo momento va appunto dai 23.000 dollari appunto ai 25.000 questo è il ranging di prezzo che potremo vedere in questa settimana qui se dovessimo osservare l'analisi tecnica che comunque ci riporta buone indicazioni a livello dei dati on chain continua la fuoriuscita dei bitcoin dagli exchange questo è ovviamente un buon segnale più a lungo termine ci dà un'idea di quella che è la direzione del mercato se i bitcoin stessero in questo momento entrando sui exchange con un prezzo a rialzo potremmo aspettarci un'inversione di questa tendenza positiva e quindi uno scarico da parte di chi ha aspettato un po' per poter portare a casa qualche profitto non è questo il caso infatti la fuoriuscita continua in questo momento di tutti i bitcoin esistenti solamente il 12.41% è stato depositato è depositato su tutti gli exchange è un ottimo dato ovviamente l'unica variabile che manca per capire se il trend può riportarsi verso una bull run è un ritorno della domanda come ho detto a inizio video solitamente questo non avviene nel periodo degli agosto un periodo comunque che soprattutto nella sua metà fa vedere un calo a livello di volumi e a livello di transato poi sappiamo che nel mondo crypto tutto può succedere e non ci sono regole scritte molto importante vedere che i miners sono tornati ad accumulare avevamo segnalato circa tre settimane fa quella che era stata la capitolazione dal punto di vista dei miners che avevano iniziato a scaricare il loro bitcoin e infatti questo rialzo questo spike che c'era stato nei depositi era stato portato proprio da lo svuotamento in parte di alcuni depositi da parte dei miners sugli exchange adesso sono tornati ad accumulare e si è raggiunto un record storico infatti il 3 agosto sono stati raggiunti negli address associati a entità come miners 1.864.842 BTC lo vediamo anche da questo grafico che riporta CryptoQuant che ci fa vedere un record storico mentre in questo momento BTC torna a superare i 24.000 dollari cosa che probabilmente porterà un po' di resistenza al prezzo la notizia più rilevante a livello di analisi fondamentale di questa settimana è probabilmente la partnership tra BlackRock e Coinbase infatti per quanto si pensi che l'interesse istituzionale sia andato calando in questo periodo in realtà quello che avviene nei mercati finanziari è solitamente il contrario quando c'è molta tranquillità nel settore, quando c'è poca euforia e quando c'è la situazione più adatta ad entrare solitamente avvengono le operazioni più importanti e questa sicuramente è un'operazione che esce fuori dopo un lungo lavorare che porta tutti gli investitori della società di asset management più grande al mondo a poter investire, a poter comprare Bitcoin tramite Coinbase Prime infatti per tutti i clienti BlackRock che già usavano Aladin come piattaforma di investimenti adesso saranno abilitati a comprare e a esporsi su Bitcoin tramite Coinbase Prime questo è il primo passo, sembrerebbe che poi la società sia già pronta ad inserire altri asset digitali la riporto come notizia molto rilevante perché la portata della società BlackRock è evidentemente rilevante e ci fa capire di come l'interesse non sia andato a diminuire in questo periodo anzi al contrario è in questo periodo che le balene si preparano a aggredire il mercato creano le loro posizioni per il futuro questa partnership ha riportato anche le azioni Coinbase a un rialzo importante infatti il titolo ha ripreso più del 50% in una sola settimana titolo che non se la vedeva bene soprattutto nell'ultimo periodo questi momenti di tranquillità sono quelli più adatti a fare uno zoom out e a distaccarci da quello che è il prezzo dei singoli asset digitali infatti per capire se questo mercato ha un futuro se questo mercato sta continuando a crescere bisogna osservare quello che fanno i soldi dove si stanno muovendo follow the money è la regola principale per capire se si sta andando nella direzione giusta e a quanto sembrerebbe il mercato cripto è sempre più attraente infatti solamente nella prima metà del 2022 sono stati investiti più di quanto è stato investito in tutto il 2021 la raccolta fondi per i vari progetti cripto nel settore ha superato i 30.3 miliardi di dollari in fondi raccolti nel 2021 erano stati 30.2 e siamo solo a metà anno a livello numerico ci sono stati 1199 round di finanziamento contro i 1313 round in tutto il 2021 per la maggior parte i soldi sono stati raccolti in iniziative di SEFI quindi Centralized Finance poi DeFi e progetti NFT ovviamente queste non sono notizie che riportano dei rialzi immediati sui prezzi dei singoli asset però ci fanno capire come questo tipo di investimento porterà alla crescita, allo sviluppo di iniziative legate al settore le iniziative vanno ad attirare anche con il marketing con il banale marketing più persone c'è più coinvolgimento si crea più domanda e si gettano le basi per una crescita ulteriore del settore e l'arrivo di una nuova ondata che magari in questa fase potrebbe essere quella che porterà alla vera e propria mass adoption che avverrà da qui ai prossimi anni anche perché secondo alcuni report il 38% dei fondi di investimento degli hedge funds stanno investendo in digital asset contro il 21% del 2021 quindi c'è un netto cambiamento di tendenza anche vista quella che è la difficoltà del settore tradizionale i vari discorsi legati all'inflazione e alle politiche monetarie che stiamo vivendo in questo momento rimanendo in tematica di grandi aziende coinvolte nel settore abbiamo un passo indietro da parte di Michael Saylor di MicroStrategy passo indietro fatto dal punto di vista aziendale infatti non è più il CEO o non sarà più il CEO di MicroStrategy ma lascerà il posto al presidente dell'azienda per dedicarsi completamente a strategie di acquisizione e holding di BTC quindi è un passo indietro a livello istituzionale ma a quanto pare vuole dedicare la sua carriera la sua vita interamente a Bitcoin e a strategie legate all'asset digitale nella settimana passata abbiamo registrato anche un attacco dialettico una critica diretta da parte di Vitalik Buterin cofondatore di Ethereum a Facebook e al suo metaverso in quanto secondo Vitalik ancora il mondo non è pronto a un passaggio verso un cosiddetto metaverso in realtà non abbiamo ancora idea secondo il cofondatore di Ethereum di cosa sarà e come sarà il metaverso in futuro e quindi qualsiasi passo fatto in questo momento sarà secondo Vitalik fallimentare per il momento Mark Zuckerberg è convinto delle sue mosse nonostante le gravi perdite che l'azienda stia riportando proprio a livello di bilanci infatti gli investimenti sono stati importanti e nel solo 2022 meta ha registrato delle perdite molto molto inconsistenti sono circa 2.8 miliardi di dollari le perdite che riportano che riporta la divisione della società meta legata appunto al metaverso però nonostante questo Mark Zuckerberg afferma che queste non sono nulla rispetto alle centinaia di miliardi o le migliaia di miliardi che il settore porterà e sembrerebbe essere pronta l'integrazione dei wallet Coinbase Wallet e Dapper per integrare e supportare gli NFT proprio su Instagram infatti sembrerebbe l'espansione essere arrivata al punto di lanciare su 100 paesi quindi a breve su tanti paesi del mondo sarà possibile poter mostrare i propri NFT tramite un collegamento che avverrà con il nostro wallet crypto e l'app uno dei social più utilizzati al mondo appunto Instagram le tre blockchain supportate sono Ethereum, Polygon e Flow Flow che dopo questa notizia ha avuto un rialzo molto importante anche a livello di prezzo in questo momento lo vediamo in trend con un 15% di rialzo ma la settimana scorsa è stata una delle monete con maggiore rialzo negli ultimi sette giorni lo vediamo con un 55% superando addirittura in capitalizzazione monero non solo belle notizie perché dal punto di vista del supporto per gli utenti c'è stata anche una grave falla nei wallet Solana che continua ad avere problematiche questa volta non legate alla blockchain ma appunto al supporto in app di alcuni suoi wallet nel particolare Phantom e Slope il problema sembrerebbe essere legato proprio alla generazione del seed all'interno del wallet Slope che poi per alcuni utenti che hanno importato le chiavi private all'interno dei wallet Phantom la problematica si è espansa anche lì sembrerebbero essere convolti più di 7000 wallet e molti sono stati appunto svuotati da questo problema chi potrebbe aver risentito di questa problematica sono stati tutti quegli utenti che hanno generato i loro wallet tramite un'app su smartphone il mio invito è sempre quello di imparare ad utilizzare un hardware wallet che diventa sempre più fondamentale in questa fase il passaggio verso la mass adoption sarà sempre più difficile proprio per queste problematiche ed è per quello che tante volte semplificare non aiuta perché nel momento in cui succedono queste problematiche molti di quelli che sono arrivati con troppa semplicità rischiano di essere poi bruciati e allontanarsi definitivamente dal settore sarà un passaggio che comprende per forza di cose educazione e gestione della propria sicurezza informatica il consiglio in questo momento è non affidarsi a nessuno per cercare di recuperare i propri asset è brutto dirlo ma per tutti coloro che hanno visto i loro wallet Solana svuotarsi per questa problematica purtroppo c'è poco da fare perché chiunque ha spostato quegli asset è il vero proprietario in questo momento dell'ecritto essendo in grado di accedere alle chiavi private quindi per chiunque vi scrivesse cercando di aiutarvi dicendovi che vi può aiutare in questa situazione state attenti potrebbe essere un ulteriore danno in arrivo mentre invece è il momento di imparare a utilizzare un hardware wallet questo discorso vale per qualsiasi tipo di asset digitale a partire da Bitcoin stesso quindi bisogna imparare da questa problematica appunto per non cadere in ulteriori problemi in futuro soprattutto visto che si sta creando una grande interazione tra tutti gli asset digitali anche gli NFT e quello che è il mondo del web 2.0 che abbiamo conosciuto finora c'è ancora tanto tempo per noi per imparare sfruttiamo questo periodo di adozione proprio per essere pronti il più possibile a questo ulteriore passaggio questa nuova ondata di entusiasmo è stata portata ovviamente dall'annuncio del merge su Ethereum che cos'è il merge? lo ripeto per l'ennesima volta sarà il passaggio di Ethereum da un metodo di consenso che finora è stato su proof of work quindi con i miners e il mining a un metodo di consenso e a una convalida dei blocchi tramite proof of stake è un passaggio storico il suo esito non è scontato per questo i tempi sono stati e sono ancora lunghissimi c'è stata la prima fase dove è stata creata una catena chiamata beacon chain parallela in cui i blocchi vengono convalidati appunto in proof of stake il merge consiste nel andare ad inserire le transazioni che arrivano proprio in quella catena per convalidarle tramite il nuovo metodo di consenso e non convalidarle più tramite mining è già avvenuta su due testnet per quanto riguarda Ethereum l'ultima sarà quella di girly e il tutto dovrebbe avvenire proprio questa settimana girly è quella più attesa perché è quella più utilizzata è una delle più utilizzate e quella che più si avvicinerà al vero passaggio in mainnet quindi i dati da parte del team di sviluppo di Ethereum saranno tantissimi quelli da analizzare e il test sarà veramente importante come detto più volte come approfondito in diversi video il passaggio non permetterà immediatamente una efficienza maggiorata della rete una scalabilità questi passaggi sono quelli che arriveranno poi con il progredire dell'evoluzione verso Ethereum 2.0 che comprenderà anche altre fasi come ad esempio lo sharding che probabilmente arriverà solamente nelle ultime fasi del 2023 però questo passaggio è importantissimo soprattutto da un punto di vista di economia della moneta stessa infatti Ethereum andrà a diminuire quella che è la sua inflazione di una scala molto importante ho analizzato la cosa in un video dedicato in molti paragonano questo passaggio a un halving o a un triplo halving per Ethereum come l'effetto che porta al dimezzamento delle reward su Bitcoin e questo effetto qui potrebbe comunque portare un'ondata di positività a livello di mercato su tutto il resto delle monete c'è anche chi parla di flippening da parte di Ethereum su Bitcoin ossia una capitalizzazione di Ethereum che cresce talmente tanto da superare quella di Bitcoin a seguito dell'effetto del passaggio in proof of stake per quanto riguarda Ethereum ovviamente chi ha questa visione è sostenitore di quello che sta avvenendo su Ethereum niente è scontato in questo momento anzi cerchiamo di vedere una cosa dopo l'altra il passaggio più importante in questo momento da osservare è proprio quello della testnet girly e poi vedere come il tutto ci porterà a settembre la data segnata è quella del 19 per il passaggio appunto in mainnet intanto stanno raccogliendo molto consenso roll up e layer superiori proprio su Ethereum perché visto che questo passaggio non porterà alla scalabilità che da tanto si attende appunto sul layer 1 della blockchain per smart contract più utilizzata l'evoluzione di layer 2 come ad esempio Polygon o altri roll up sta supportando molto bene questi passaggi tanto che arrivano notizie come questa qui il nuovo album dei Muse verrà rilasciato come NFT proprio su rete Polygon tramite la piattaforma Serenade Serenade consentirà di acquistare l'album che si chiama Wheel of the People che sarà informato appunto NFT questa è stata la scelta di una delle rock band più famose al mondo che sceglie Polygon proprio per la sua eco-sostenibilità e per essere eco-friendly questa è una anche delle tematiche più importanti in questo periodo dove lo stesso passaggio dalla proof of work alla proof of stake di Ethereum andrà a strizzare l'occhio proprio a tutti coloro che hanno attaccato il metodo di consenso con il mining proprio a causa degli alti consumi fermo restando che questi eventi sono poi quelli che ci portano sempre di più verso un'adozione che aumenta e lo possiamo vedere continuamente dai diversi numeri voglio tenere questo episodio abbastanza corto perché è un periodo appunto estivo e so che video troppo lunghi non sono l'ottimale in questa fase voglio ricordare inoltre che comunque Metaswap sta continuando il suo percorso verso la mainnet allo stesso tempo visto che sta arrivando questo test per Ethereum e il suo passaggio in proof of stake su rete girly è stato deciso dal team Metaswap di fare un ulteriore test anche sulla rete girly degli agent swap così da vedere come reagisce a questo nuovo passaggio intanto si stanno rilasciando degli use case su Medium l'ultimo rilasciato è quello di un utente che ha Ether e vuole proteggersi in caso il prezzo vada invece che ad alzarsi ad abbassarsi da qui ad un mese come si può fare ci si può proteggere aprendo una posizione di swap appunto su Metaswap questo lo si può già fare in testnet su Covan per vedere come funzionerà poi una volta rilasciato in mainnet e una volta utilizzabile per capire meglio come funziona e per seguire una guida passo dopo passo su come fare qui è stato rilasciato un articolo dedicato ricordo inoltre che Metaswap è sotto auditing e i progressi sono in continuo aggiornamento su la dashboard di Certic che tra l'altro ha appena aggiunto il badge di KYC certificando e verificando l'ID dei ruoli principali del team dei componenti principali del team Metaswap progresso che al momento è all'85% al 100% avverrà appunto il rilascio in mainnet dopo i test che verranno fatti appunto su rete girly per questo lunedì è tutto molto probabilmente lunedì prossimo andremo ad analizzare proprio il passaggio avvenuto sulla rete di testnet l'ultima in attesa cosicché mancherà un mesetto al famoso merge e al vedere come tutto il mercato potrà reagire a questo passaggio è un passaggio che in molti stanno sottostimando vista l'importanza e il peso che comunque ha tutto l'ecosistema Ethereum e tutte le dapp costruite su Ethereum nel mondo cripto lo stesso bitcoin potrebbe vedere un interesse ritrovato proprio a seguito di questo passaggio ovviamente dovremmo unire il tutto anche a quello che succederà dal punto di vista economico e finanziario con l'arrivo di nuove decisioni soprattutto legate ai tasse di interesse e a quelli che saranno i nuovi risponsi sui tassi di inflazione oltre che alla crisi politica che stiamo vivendo e la situazione ad esempio di conflitto quanto meno dialettico che sta avvenendo in Cina su Taiwan con gli Stati Uniti quindi questi sono tutti gli elementi che andremo ad analizzare nelle prossime settimane e con l'arrivo di settembre per ora vi auguro un buon lunedì e appunto un buon Cripto Monday a notizia di a notizia di